Con noi stasera c'è una grande star della musica dance Arriva direttamente dal Messico dove ha fatto una serie di grandi serate Simone Farina E questo è il suo nuovo ruolo Simone Farina In diretta su Radio Studio Piu E questo è il suo nuovo ruolo 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 Farina Vai Il suo nuovo ruolo Il suo nuovo ruolo Martin Il suo ruolo Il suo ruolo Il suo ruolo Libero Libero